Ciao a tutti e benvenuti in questo video nel quale realizzeremo insieme è una parola un po' troppo grande perché voglio dire non è che ci mettiamo a fare tutto il ramo qua insieme appunto pensi vi darò delle informazioni e delle indicazioni per andare a realizzare questi fiorellini da mettere appunto su un rametto di potatura non è che sono andata ecco a distruggere piante in giro per prendere questi rametti si tratta di rametti quindi di potatura che potete anche voi tranquillamente trovare nei giardini se ne avete uno nel vostro giardino altrimenti anche in campagna così adesso io di preciso non lo so però voglio dire possono anche cadere spontaneamente questi ramoscelli non è detto che diciamo ci sia bisogno della potatura ok quindi volevo in qualche maniera comunque con questo lavoro io rappresentare la primavera e quindi andare a fare un ramuscello diciamo fiorito questo è intuitivo cioè ovvero non tanto intuitivo perché quando ho pubblicato la foto no questa qua del ramuscello su instagram sotto c'era scritto a che cosa serve ok perfetto cioè possiamo fare anche delle cose che non servono a nulla che siano semplicemente ornamentali per l'home decor io ho pensato a questo ramoscello per andare ad abbellire la tavola di pasqua ad esempio vicino a un tovagliolo no? oppure sopra il piatto che ne so oppure su un centro tavola voglio dire ma anche se non dovesse servire a nulla però questa cosa mi fa veramente piacere perché se non fossi ecco se non avessi fatto questo passo di andare a mettere i miei lavori sul web forse queste domande non me le avrebbe mai fatte nessuno perché anche se qualcuno magari avesse pensato ma questa che fa cosa serve questo ramuscello magari in faccia no non avrebbe mai avuto il coraggio di dirmelo si sarebbe che ne so girata verso un'amica o qualcuno e avrebbe detto cioè vabbè il ramuscello poi invece no il web è così cioè mi ti viene in mente a che cosa serve lo butti là è chiaro io però mi dispiace ho fatto quattro risate perché comunque voglio dire andatelo a dire che ne so la natura che cosa serve far fiorire le piante cosa servono i fiori va bene a noi servono comunque per fare un po' di gioia colore nelle nostre case e quindi anche se tra virgolette non servono a nulla questi lavori li facciamo uguali ok allora dicevo il ramuscello che cosa vi dovete procurare un ramuscello di potatura poi il cablet numero 5 preferibilmente che sia per terminare di due colori io ho utilizzato il rosa e il bianco perché ho voluto riprodurre adesso dirò una stupidaggine i fiori di pesco e di albicocca credo siano rosa e bianchi anche se ho le piante in giardino però voglio dire la mia memoria visiva è molto limitata e quelli di invece mandorlo questi non ce l'ho qua a casa però credo siano bianchi i fiori del mandorlo fatevi una ricerca o qualcosa scrivetemi qua sotto se ho fatto qualche sbaglio un uncinetto numero 1 poi un ago per fermare il filo ma vabbè non è che è poi il segnamaglie ma anche no perché è solo una maglia da segnare se la vedete non c'è bisogno di andarla a segnare poi però ci vuole la colla quindi questa volta bene sì non li possiamo cucire e quindi li andiamo ad incollare con il cablet rosa perché il centro lo facciamo rosa oppure bianco se fate quello lì con l'altro fiore andiamo a fare l'anello magico e una catenella come sempre nell'anello magico così perfetto poi facciamo 5 maglie basse proprio per essere esagerati perché poi si vede però vabbè chi è alle prime armi può tranquillamente segnarla quindi una due tre quattro e cinque maglie basse all'interno dell'anello magico ok adesso andiamo a stringere l'anello e mi raccomando adesso dobbiamo cambiare il filo quindi noi prepariamoci l'altro colore che è questo qua non andate a tagliare nulla e che cosa facciamo togliamo il segna maglie andiamo nella maglia segnata con l'uncinetto quindi qui dentro così e chiudiamo la maglia col filo dell'altro colore quindi con il panna così ok e abbiamo fatto 5 maglie 1,2,3,4,5 questa è la chiusura non la dovete contare facciamo 3 catenelle con il colore panna quindi 1,2,3 e poi andiamo qui nello stesso punto nel quale abbiamo chiuso il giro questo primo giro ci andiamo a mettere 3 maglie alte e prendiamo ecco anche i fili sotto mentre lavoriamo durante la lavorazione quindi questa è la prima maglia alta sempre nello stesso punto ci mettiamo la seconda e poi la terza ok facciamo 3 catenelle 1,2,3 e nella maglia successiva che è questa qui prendendo sempre questi fili ci mettiamo una maglia bassissima in questa maniera e quelli li possiamo andare anche a tagliare da qui ripartiamo facendo 3 catenelle quindi 1,2,3 e nello stesso punto mettiamo 3 maglie alte quindi 1,2,3 3 catenelle quindi 1,2,3 e nella maglia successiva la maglia bassissima ripartiamo da qui sempre con 3 catenelle quindi 1,2,3 e nello stesso punto 3 maglie alte quindi lo stesso punto è questo facciamo 3 maglie alte 1,2,3 poi ci sono le 3 catenelle quindi 1,2,3 e nella maglia successiva che è questa la maglia bassissima ripartiamo con le 3 catenelle 1,2,3 poi stesso punto 3 maglie alte 3 3 catenelle 1,2,3 e nella maglia successiva che è questa ci andiamo a mettere la maglia bassissima dobbiamo fare adesso l'ultimo petalo perché sono ecco 4 noi avevamo 5 maglie quindi qui sopra ci dobbiamo fare il quinto petalo facciamo le nostre 3 catenelle le 3 maglie alte nello stesso punto che è questo qui per cui 1 2 3 3 catenelle 1,2,3 che andiamo a chiudere con la maglia bassissima qui sul primo punto quello che abbiamo utilizzato all'inizio quindi facciamo la maglia bassissima a chiudere tutto il fiore poi tagliamo il filo bianco che è questo qui il filo rosa che è questo qui ok e i fili da fermare saranno solo questi due una volta fatto possiamo fare così con questo fiorellino cioè ricreiamo in qualche modo il bocciolo e poi si andrà ad aprire naturalmente come vuole lui ok così ok io ne ho preparati parecchi quindi 3 4 5 5 6 7 di questi fiorellini e ci vado a fare un rametto piuttosto grande io credo di andarci a metterli su questo rametto qua anche oggi abbiamo terminato con il tutorial io spero che vi piaccia realizzare questi fiorellini vi rilassi vi faccia divertire e che la vostra tavola di pasqua sia veramente carina gli invitati potranno portarsi via magari a casa anche un ricordo della giornata passata insieme se vorrete regalare loro appunto questi questi ramettini qua altrimenti ve li tenete li tirate fuori l'anno prossimo l'anno successivo ok io qui lo taglierei però perché questo pezzo qua non è che mi piace troppo ok quindi mettete un mi piace a questo video se il video vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale perché non è tutto finito qua con i 50.000 iscritti che poi festeggiamo apriremo via dopo pasqua i festeggiamenti